In questa foto eravate seduti su una panchina, ieri eravate seduti su delle sedie in questo spazio, lo Spin Time, che è uno spazio occupato, un simbolo delle occupazioni a Roma. Mario Aiello, oggi sul Messaggeri, il più importante giornale romano, dice che è un luogo in cui un partito serio non dovrebbe andare. Gualtieri, si è pentito di essere andato fin là o è una scelta politica precisa che riguarda anche le politiche che avrà rispetto all'occupazione abusiva? Guardi, un sindaco serio va dove ci sono i problemi e cerca di risolverli. Girarsi dall'altra parte di fronte ai problemi non è. E quindi io sono una persona che si confronta e va proprio dove le questioni sono più difficili e delicate. A Roma c'è un'emergenza abitativa, un disagio, una difficoltà, una precarietà abitativa che riguarda decine di migliaia di famiglie e c'è un fenomeno che non va bene, che è quello delle occupazioni. Allora il problema, e io ho proposto lì un patto, un grande patto, per la casa, per i diritti dell'abitare e per la legalità. Perché se non si dà una via di uscita a questo problema, poi noi continueremo a avere quello che c'è stato, che riguarda soprattutto problemi anche più gravi, perché poi ci sono situazioni diverse. C'è un grosso problema come in tante città grandi in Italia di emergenza abitativa, ma c'è un problema anche legato alle occupazioni abusive. Se lei sarà sindaco dopo aver vinto le primarie, quale sarà la sua linea rispetto agli sgomberi delle occupazioni abusive? Io l'ho detto appunto nel programma che ho illustrato ieri, ho detto che noi dobbiamo lanciare un piano straordinario per affrontare il diritto all'abitare, che riguarda innanzitutto le fasce più deboli della popolazione. In questi anni la Giunta Raggi non ha fatto nulla e quindi sono graduatorie ferme, case che non sono state assegnate, mentre ci sono le risorse, il PNRR e la possibilità di reperire nuovi alloggi. E quindi gli sgomberi che devono avvenire, soprattutto poi ci sono le occupazioni individuali delle case comunali che sono anche spesso in mano alla criminalità, quindi una situazione gravissima, diversa da quella dove siamo stati. In quei casi occorre naturalmente sgombrare senza guardare in faccia nessuno, ma in generale rispetto al piano sgomberi, ma faccio a dire una cosa tecnica, perché altrimenti le risposte devono essere nel merito, altrimenti sono generiche. Il piano sgomberi che è stato realizzato e che non ha funzionato, io ho proposto il modello, si chiama di sgomberi casa per casa, quindi si sgombera e contemporaneamente si deve trovare una soluzione, altrimenti o lo sgombero si traduce in un dramma sociale o non avviene proprio, perché non c'è una soluzione alternativa. Ci sono anche occupazioni di carattere politico, penso per esempio a Casa Pound, lei che farà? Ma io ho già firmato per lo sgombero di Casa Pound, da Ministro dell'Economia, poi la sindaca non ha ancora agito. Però visto che Casa Pound sta sempre là, lei si candida adesso ad essere sindaco di Roma, visto che mise nelle condizioni il vecchio sindaco di farlo, lo farà? Deve essere fatto, poi in mano al prefetto, ma naturalmente il sindaco io lo farò, ci mancheremo.